Scrinio è un controtelaio di alta qualità, fatto per durare, che l'azienda proprio per questo garantisce a vita. Quindi il prodotto Scrinio è realizzato in aluzin, un prodotto molto importante perché è anticorrosivo, per cui questo significa che la durata è per tutta la vita del prodotto e noi lo garantiamo a vita. E il carrello per 20 anni, quindi direi che un successo primario per Scrinio è proprio derivante dalla sua intrinseca qualità. Ovviamente noi come azienda lavoriamo tantissimo sulla comunicazione, il marchio è il marchio più noto nel settore dei controtelai, proprio perché fin dalla sua nascita Scrinio ha dato tantissima importanza alla comunicazione, lavorando sul marchio, sulla notorietà del marchio e sulla conoscenza del prodotto. Nel 2010 noi siamo stati presenti su tutte le più principali testate Sampa del settore, siamo presenti appunto sui principali portali, tra cui appunto Edilportale, facciamo comunicazione web e abbiamo fatto anche tanta televisione. In ultimo le telepromozioni su striscia alla notizia, che avrete sicuramente visto, e che ci portano proprio a parlare al pubblico finale, per far capire appunto l'importanza di Scrinio come azienda leader nel settore e anche la riconoscibilità del nostro prodotto, perché non è vero che tutti gli scorrevoli sono Scrinio, in quanto se non c'è Scrinio non è Scrinio.